Ok, chi ti ha posto? Duma? Vado avanti io? Ok, ok. Allora l'ho fatta una volta con Francesco. Era fatto, mi dicevano, ma non si poterlo salire gli ucchi. No, no, no. Ok, chi ti ha posto? No, no, no. No, no, no. Si, si. Santa Barnabata Santa Barnabata Santa Barnabata Santa Barnabata Vai vai, oi shandy doi shandy, shandy un pio doi shandy l'ha già fatto il massimo lì, stesso lì c'è una bocca lì, c'è una bocca lì, c'è una bocca lì ciura, andiamo fiato eh, anche di sotto eh, forse è meglio di sotto no 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 no't era una bocca che ti va poter Sottotitoli! Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Sarebbe di qui Vieni di qui O se vuoi andare lì ci troviamo sopra E non lo sono il tuo Segui questa strada Per 1,2 km Qua migliora Era da prendere sotto Eh oh me la seguiamo così Perché mi sembrava meno ripida di quella lì Quando l'ho tracciata Sei? Sei addirittura di Abuju Sì Sì Vi dire siamo già passati Però non mi ricordo quando vediamo quella superpa No no però Stiamo in presa Come? Vado a venire a est... Adesso troveremo un altro porte Noi stiamo faticando, ma con le lettere bisogno di venire. Adesso sta andando l'ecco. Bed and breakfast, il mandrione. E questo è il mandrillone. Allora... ... ... ... ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sul camper stiamo in trailer. Ah no, sei di umicampera. Quanto merda? Guarda che c'è il cane che ci torna dietro. È fermo? Ah beh ecco. Arriva? Allora. Voglio vedere quando torniamo giù cosa fa. Allora arriva. Oh ma è andato a finire. Ma è andato a finire. Eh? Ma porca. Arriva. Eh? Porca merda. Pensa se ero da solo? E adesso andrò giù? E dove andrò giù di lì? E ti induma. Qui finisce? Ma è suo al cane magari. L'altro è fatto con pane. È un alfetti. Pianto nel fungo. Se vuoi venire lì, farti da mangiare. No, dobbiamo preoccuparti a scenderti. Ma il vito, ci sono stati 200 metri. Eh? In un attimo lo arriva. Eh? Sì, ma adesso. Impressionante. C'è un po' di nuovo. Eh? Ci abbiamo il culo? Io ero venuto qua il 24 di dicembre. E c'erano 20 gradi. Sì, cosa c'era? Oh, che c'era il cavo e i gallini. Oh, porca merda. Ma non pensavi che ci fosse una roba dei bambini? Non pensavi che ci fosse una roba dei bambini? No, porca merda. Sì, è che ci fosse una roba dei bambini? Due, addirittura. Non so, porca merda. Dumo, 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 dumo. Ma non pensavi a trovare i cani qua io? No, non pensavi che ci fosse una roba dei bambini? Ma io faccio sempre o mai trovati. Siamo in Danny Cane. Voi dove siete? Siete qui o siete lì? Giù, e c'è il cane lì, ci lascia passare. Ci hai già corso dietro prima? Dici ciao, che ti faccio il filmato. E tua sorellina questa qua? Siete. Cuginetta. Siete qui. Come ti chiami te? Come? Paolo. Paolo, che bel nome. E la cuginetta come si chiama? Giorgia. Giorgia? Sì. E va di moda adesso, Giorgia. Ma che bici sono? Eh, sono bici elettriche, perché se noi siamo già anziani e non ce la faremmo. Guarda, piatti qui. Siamo tutti in bianca. Sì. Pogliamo anche il filmato. Ah, ecco, vedi? È già un imprenditore. Adesso, spiegaci come facciamo passare con il cane. Siamo, da noi, da noi. C'è tua mamma lì, che credo che sia venuta fuori lei che lo ha chiamato, perché se no ce la vediamo quasi nelle ruote. Ciao, nemmeno. Ciao. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Baffi davanti. No, ma quando siamo lì, se abbiamo la casa, caproni. Fermati, fermati, fermati. Ma che andiamo, dai, se no. No, signora. Ma no, scherzale, vado. Ci tiene il cane un minuto? Se ci tiene il cane un minuto? Grazie! Ha tenuto, ha tenuto. No, no, me l'ha fatto ripetere altre volte, non capisco, quando ho capito, sì, sì. Trago. Non ti puoi fidare ad andare più da quella parte? Spettacolo! Spettacolo! Lav faith耶. Ja vai. Mirai. Si che lascia ancora andkę, esza mianza, inseguro. Democrat, no. Ma che danza buona. Non ti puoi fidare ad andare sicuramente in inguitare per la parte. Voglio fare un selfie? Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. protezione. Grazie a tutti. anche a tutti. Grazie a tutti. con le... 30, 53, 53 km,